Grazie. 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 Chi vuole mettere un biglietto al muro del pianto può chiedere anche qui una grazia speciale perché qui sarà risposta. Non mi raccoglie. Lei è molto sensibile all'idea della cittura, dell'ecologia, anche qui, custodiscono molto questo recidio. E' un problema che noi dobbiamo affrontare. La cittura è una cittura, che è un problema, che è un problema. La cittura è una cittura, la cittura. La cittura è sempre una cittura, non la cittura. Ma il libro della Gerese ci ricorda che non dobbiamo tornare al tovo a voo, cioè alla confusione iniziale, prima della creazione. No, 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 no. Queste sono iscrizioni delle antiche sinagoghe. Mille, mille, cento anni. Grazie. 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 Grazie.